Dal 2005, anno di nascita ad oggi, il mercatino delle pulci nel centro storico di Arco ha acquistato una tale notorietà che il numero degli aspiranti espositori è cresciuto in misura notevole. Le comunicazioni di partecipazione sono passate dalle 170 del primo anno alle 350 attuali, con medie di circa 120 partecipanti al mese. Quest'anno i numeri sono in ulteriore crescita, infatti le domande protocollate erano 326, da cui la necessità di chiudere le iscrizioni con ulteriore anticipo, cioè a partire dal 9 maggio fino al 31 dicembre. Vediamo il servizio realizzato questa mattina. Da dove vieni? Io vengo dalla Val di Ledro. Da Attione, di Trento, Val Giudicarie. Da Brescia. Da Valleggio, provincia di Verona. Io sono sarda ma abito ad Arco da 10 anni. Come mai hai scelto proprio Arco? Proprio Arco? Beh, è più accessibile senza andare chissà dove a fare mercatini, poi è una bella zona, si sta qui al caldo, comunque c'è gente. Ho scelto Arco perché è un mercato molto grande che attira parecchie persone, è una volta al mese, perciò si cerca di sfruttare anche l'occasione di una giornata al mese. Perché mi sono unita l'anno scorso al mio cugino che viene da parecchi anni, lui vende libri e dischi e così anch'io ho deciso di eliminare un po' di cose da casa per appunto la storia del riuso. Ho scelto Arco, mi hanno detto di provarlo, ho provato Arco, dato che c'era la possibilità di frequentare per 8 mesi su 12 e una volta all'anno si fa la scelta dei mesi, poi si fa la domanda e si partecipa. Mi piace la cittadina, mi piace la gente che lo frequenta, mi piace che passano qualsiasi tipo di persona, specialmente i turisti, mi piace perché è un mercato adatto a tutte le esigenze delle persone. E da quanti anni fai mercatino e da quanti anni lo fai qua ad Arco? Allora qui ad Arco lo faccio, è il secondo anno, però che faccio mercatini o fiere sono 6-7 anni. Ad Arco sono 3 anni che vengo, i mercatini sono 6 anni che faccio mercatini. Qua ad Arco è in realtà la seconda volta che vengo, i mercatini ho cominciato a farli da pochissimo, sarà da quest'estate, quindi pochi mesi, mi trovo bene, mi piace. Una mia amica aveva parecchie cose in cantina e non sapeva come disfarsene, pensavo che fossero utili per altre persone e anche un modo per riusare le cose. mi ha chiamato, mi ha chiesto, visto che tu sei un po' intraprendente, mi ha detto, potresti trovare un'occasione per vendermi queste cose o anche per regalarle, visto che faccio parte anche della giornata del riuso di riva, dell'usato in generale. Nel mercatino qui ad Arco da due anni ormai? Sì, sono due anni, no, in generale no, non faccio attività di vendita. Cosa vende lei? Io vendo vinili, anni 50, 60, 70, un po' di francobolli, un po' di tutto, quello che si può raccogliere e si vende. Oddio, il marcarello è mio è molto originale, cerco di portare sempre delle cose che mi danno persone con cui lavoro assieme o persone che passano da casa mia o anche oggetti che sono fatti a mano, realizzati a mano. cerco di avere sempre qualcosa che possa piacere a qualsiasi tipo di persona. Io vendo cose che ho anche a casa, che ho acquistato, che magari collezioni tipo di targhe o giocattoli che ormai ne ho da tutte le parti e ho deciso di sbarazzarmi perlomeno delle doppie. Oppure qualche abito che anche qualche mia amica mi dice, ma dai vai, tanto un euro o due euro, vero? Cioè non vengo per far soldi, ma solo per stare assieme così, passare una giornata. Un po' di tutto, dipende dai mercatini, ci sono mercatini che puoi portare cose così, mercatini dove puoi portare cose un po' più belle, vestiti o borse o anche cose un po' più raffinate. I prodotti che vendi hanno successo qua tra la gente che visita? Sì, i prodotti che vendo io come i prodotti di tutte le bancarelle, specialmente quelle più originali tipo la bancarella che abbiamo di fronte che hanno le bocce in vetro di Bohemia o gli angeli dell'atun. Sono cose ricercate, cose preziose perché sono pezzi unici. Molto perché riesco a rimpiazzarli di volta in volta proprio perché li esaurisco quasi. Ma sì, direi di sì a fasi alterne, a giornate alterne, ci sono periodi in cui va meglio e periodi in cui va meno bene. Il vinile va di gran moda, sta tornando alla grande e quindi è un ottimo mercato, diciamo. Ci sono delle ottime possibilità, anche Arco è un'ottima piazza come mercatino. Sì, poi sempre dipende dove ti trovi, che sono incontri, comunque sì.